simile davvero e poi a prezzi del genere. C'è una passatoia di Shiraz così bella, 1,80 x 70 a 290 euro, nemmeno se fate il giro del mondo. Via! Possiamo passare al numero 7 e il numero 7 è invece un altro tappeto persiano affascinante e anche molto molto bello come i colori perché il fondo è chiaro e sono stupende queste geometrie all'interno di esso perché è un autentico persiano di root bar che misura 1,50 x 1,05. Pensate che lo posso offrire a soltanto 290 euro. E qui un esempio di root bar particolarmente bello e prezioso, questo è il numero 7 se volete vederlo e provarlo a casa vostra senza impegno, basta chiamare e dire il numero 7. Adesso andiamo a vedere il numero 8 che invece è questo Bokhara in disegno classico, zampe d'elefante di Bokhara che tutti voi conoscete. Questo è un Bokhara Kashmir, le lane più pregiate in assoluto. Questo è il magnifico Bokhara Kashmir che ha questo fondo rosa, un rosa leggero, un rosa morbido, mi piace particolarmente, è molto elegante come il tappeto. Ed è poi campo libero e che ti consente anche di mettere un tavolino sopra perché ovviamente non disturbi quello che è il medaglione centrale o altre varie geometrie. L'esemplare di visione che è il numero 8 misura un metro per un metro e cinquanta, beh divertitevi stasera perché 290 euro, sai cosa costa questo 290 euro anche per questo ed è lo splendido numero 8. Grazie, possiamo toglierlo e passare al numero 9. Il numero 9 è ancora Bokhara Kashmir ma una bellissima corsia, una passatoia, ancora se avete un corridoio oppure come citavo prima in una camera a fondo letto è l'ideale, questa stupenda corsia, una passatoia di Bokhara Kashmir e quando tocchi queste lane ti rendi conto della qualità superiore che ha. Allora, l'esemplare di visione dunque è il numero 9, 3 metri e 45 per 78 a 290 euro anche lei, vabbè, io credo che dureranno ben poco così tappeto in visione, 290 euro per una corsia come questa che ti assicuro meno di 1.500-1.700, non te la fanno vedere assolutamente, è proprio bella e la qualità superiore che ha. Questo è il numero 9, se volete provarlo nel vostro rendimento sapete come fare, possiamo toglierlo e passare al numero 10. Il numero 10 parliamo ancora una volta, questo è il fratellino del numero 5, ecco se uno voleva fare una coppia di scendiletto potrebbe farla perché anche questo è un bucarino davvero di quelli meravigliosi a 190 euro soltanto. Quindi questo sarebbe il fratellino del numero 5, se vogliono fare la coppia. Ed è il numero 10, grazie. Passiamo al numero 11, ritroviamo ancora una volta la manufattura di Bokhara, Kashmir ed è il numero 1. Questo lo trovo meravigliosamente moderno perché oltre alla geometria e al campo libero del tappeto ha questo grigio perla di fondo che lo rende particolarmente grazioso, il numero 11, a 190 euro, misura 93 cm per 70, 190 euro per lui ed è l'11. E poi andiamo a vedere questi tappeti che io adoro, si chiamano Kilim ed è il numero 12, questo Kilim che poi arredono non solo da mettere a terra perché sono bellissimi i colori, sono naturali, ma a volte anche su dei divani messi, solo perché sono molto leggeri, molto fini, è il numero 12, questo Kilim misura un metro e trenta per 90, 190 euro amici per lui ed è il numero 12, 190 euro in Kilim di questa bellezza, via!